L'importante è non fare nulla, che non è così scontato. Dicevamo, l'importante è... Sì, ce l'abbiamo. Allora, bastardo. Ma come? Scusa, mannaggia. Sì, ci siamo. Sì, mi permette di presentare a me. Mi nome è Astarion. Mi ero in Baldur's Gate quando i miei fatti snaccati. È così? Sì, è vero che stiamo in diversi cittadini. Oh Well getting out of here for a start then finding anyone who knows about these worms I need an expert someone who knows how to control these things Well, yes, of course, but first things first You know I was ready to go this alone But maybe sticking with the herd Isn't such a bad idea and you seem like a useful person to know all right. I Accept lead on Oh Well hello what can I do for you Oh what so tell I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious In interesting find it's open future acquaintances don't hold the blade to your throat by way of introduction Importante non fare uno vabbè non è così scontato C'era scritto tipo Più due più tre Una cosa del genere Il cinghialus Dicevamo demon dicevamo Dicevamo l'importante non fare uno Guarda cosa abbiamo fatto giusto in tempo Raga quando vi dico le cose quando vi dico le cose Voi non vi fidate mai di me Ma io lo so che sono una cazzo di sfiga Guarda cioè neanche in tempo a dirlo Eccolo qui l'uno Che merda Ciao Ciao Ma scusate Ma alzalto l'ho fatto partire mezz'ora fa Ah però sei stronza Fatelo dire che sei stronza No Oh Chi è? Non Zonru 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 Dio, perché faccio un schifo? Non li voglio uccidere 19, vai affanculo, vai affanculo 19, 24, 24 Vabbè 24 Ma prima facciamo un 1 Per fare 24 su una cosa che deve farci Madonna quanto so sfigata Una vita mia, ragà, incredibile Sempre le cose quando non mi servono E le cose che mi servono, che non mi servono Mi servono, incredibile Affanculo Sì, vabbè, manca fa 24 però, eh Eh, però Fia, mi ha importato il cazzo Cioè, nel senso Io volevo salvarti senza ammazzare nessuno Perché loro non è che Che catt'hanno fatto A parte che ti hanno ingabbiata Ma a me che cazzo me ne frega Che ti hanno ingabbiato Cioè, nel senso No You lying rat Proprio io Proprio io Oh no No Ah, io e lui siamo due charlatani Top Beh, che dire Oh Plagate un po' Bastarda Andate Non ce la faccio capire che mi devo muovere Iscriviti Oh Buongiorno Oh Oh No U Oh la tadpole non ha scramato tutti i tuoi sensazioni auspiciose ma quanto più ci siamo aspetti più ci si consuma i miei persone possano la cura di questa infezione devo trovare una creche tu mi aspetta cuidado Oh Githyanki protocol is clear when infected with a gate tadpole we must report to a gustio for purification You may as well suggest a wyvern bow to worms the cure I offer will suffice thanks Non lo so mi sta un po' sull'anima posso dire non lo so va bene Si ma stai attenta perchè mi hai già avuto tutte le varie Brava Tu c'è veramente disponibile nel diario Pi che altro mi ha fatto uccidere quelli lì che non è che c'avevo tanti cazzi di ucciderli posso essere sincero Ma io che cazzo c'ho addosso raga io un'ora che prendo cose non me ne metto Dannazione Questo che chi è? Ah della tipa Questa però me la posso mettere? No cuore scuro Me la posso mettere in cazzo scusate Fate quello che volete Ti devi Salve buongiorno Cosa 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 Oh però lei si deve placare Perché sennò la mollo Cosa 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 è successo Non me ne sono neanche accorta Ma scusa ma mi sono impigliata Come un tacchino Ops Oh Ma come è meno 5 Oh